Turismo senior e nuove tecnologie, così si potrebbe riassumere il progetto che vede l'Abruzzo promuovere i nuovi canali dedicati agli over 55 con pacchetti personalizzabili e soprattutto a costi ridotti, poiché dedicati a periodi di bassa stagione. Si chiama PLEASE l'iniziativa che punta a creare una nuova era delle vacanze su misura. L'obiettivo è quello di creare un prodotto turistico che dia la possibilità a queste persone di viaggiare in bassa stagione senza spendere molto, utilizzando le nuove tecnologie. Un progetto che coinvolge anche altri paesi dell'Unione Europea con attività di incoming. Alle spalle un'organizzazione che prevede il coinvolgimento di strutture ricettive interessate, di comuni e località ospitanti è tutto a portata di click, offrendo la possibilità di visitare il sito e disegnare la vacanza tagliata su misura. Il progetto prevede che da diversi paesi europei, dalla Spagna, la Grecia, Malta e dalla Bulgaria, arrivino 32 seniors che verranno formati dalle guide, che saranno a loro volta formate da noi e quindi arriveranno prima di questi seniors, a selezionare dei pacchetti turistici, più che dei pacchetti, delle proposte turistiche, degli itinerari, selezionare gli alberghi e quindi loro costruiranno questa permanenza in Abruzzo e noi lo ospiteremo in ottobre, in periodo di bassa stagione. È un progetto europeo realizzato in ambito del programma COSME. Il programma COSME è relativo alle piccole e medie imprese, alle small, medium enterprises e in questo ambito l'Italia ha un ruolo principale, infatti il capofila di questo partenerato è ANAS, ci sono ben quattro partners in Italia che sono ISEST e in Abruzzo ce ne sono due, abruzzo.com e scontrone. Ma il partenerato coinvolge ben cinque paesi europei, Spagna, Grecia, Bulgaria, Malta, oltre all'Italia, come detto, e fra questi in Spagna abbiamo l'Università di Valencia e Dependencia, in Bulgaria abbiamo PKGB che è una piccola e media impresa e in Grecia abbiamo il Periferia Tessalis che è un comune della Tessalia e a Malta abbiamo MACT che è un partner NGO di cultura turismo locale.